Sera Si sento ragazzo Zanitz Emilia Dejas 2-0 Benignetti In percussione fuori La Chichi Organizza Bernardi Fuori per Spagnoli Temporeggia Dentro Ancora lei Ed è 4 Subito spara Ed è subito l'entra La 3 4-3 9 team Dopo qualche minuto Buono 10-9 Dalle sprint del malda E' tipo off del maschile E' un'altra E' un'altra E' un'altra E' un'altra E' un'altra Vedete il carabelle Il cuara Dalla No Si prese il caribazzo In prepotenza Ma Stordinato E' un'altra Guardi 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 Ancora dei bianchi Guarda Percussione Si prese il rimbalzo Andiamo Ragazzi Guardano solo lui Oggi 5 Per forza Primo pallo Di madri 6 Trofino E' un'altra Che cosa Che cosa Che cosa L'imperatore 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 E' un altro E' un altro Politico Dov'è il manager Manager La palla gira. La palla gira. Vuoi? Lello, Lello. Ricordiamo ancora una volta i buoni per la Pippe e i due gatti. Pizza, bibita, dolce, 10 euro. Riperateli al nostro tavolo se li volete. E ricordo anche pre-vendita per la serata con Bob Sikler al bagarre. C'era solo lui, mi dicevo. E' un po' di gioco. 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 Simone sta molto attento. E si comincia. Quero c'è? Maurizio, primo imbalzo per lui. Dentro fuori. Che astuzia. Che volpe. Che bomba. Che bomba è. Questa disparità. Oxace. E' però. E' però. Ehm. Grazie a tutti. Ecco che arriva l'Eldoleo Steve, nonché Steve Laquerza, umiliato e straumiliato da Il Vigno quest'anno. È un'umiliazione pesantissima. La gloria! No, 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 no. E' bello questo cammino. Grazie a tutti.